Musica Le scene sono state realizzate in due gruppi che sono stati divisi e ciascuno di essi ha fatto una scena doveva essere realistica o verosimile. I personaggi dovevano avere le caratteristiche del ragazzo e della ragazza ideale. La ragazza ideale rispetto a noi deve essere comprensiva, sincera, simpatica, sorridente, non qualitosa, occhi azzurri. Simpatica, carina, vestita bene, senza brufoli. Bella, in forma intelligente. Intelligente, gentile, spiritosa. Famosa e fedele che non ti credesca. Dopo una lunga riflessione ci siamo accorti che il ragazzo ideale non può avere tutte le caratteristiche presenti nelle adolescenti al giorno d'oggi. Alto, magro, muscoloso, atletico, cresta e orecchino. Denti bianchi, simpatico e intelligente quanto basta. Bello, dolce, non ciposo. Gentile, intelligente e non scemo. Sincero, non se ne approfitta, non si vedo ogni vita. Fiducioso, romantico e spericolato. Che difende sessi ed educato. Siamo accorti che era impossibile trovare tutte queste caratteristiche in una sola persona. Quindi abbiamo, con l'uso di molti personaggi, siamo riusciti a mascherare questo fatto e quindi di essere riusciti a fare un buon video. Ciao! Ciao mamma! Io e? Anch'io! Noi! Mamma, adesso come ragazzo, va bene? Mi dà quel saldo per piacere? Ok, io intanto vado a casinò. Sì, ok, dai, dovrebbero bastare. Sono 12.000, attimo, va bene? Sì, dovrebbero bastare, grazie. Bene. Ecco, mi sono arrivata, portatemi questo. Grazie, mia. Ascolta, io devo uscire con te, super marro. Va bene? Va bene. Ok, grazie. Ciao. 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 Ascolta, tieni. Ascolta, tieni. Andiamo a fare i soldi. Ok. Aspetta, ne voglio una nuova. Quindi vado a prendere e vado a pagare. Ok, ok. Io non ho i soldi. Ok, vai, ciao. 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 Guarda, 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 ti devo uscire. Guarda, spregati. Vai, vai, vediamo te la metterà. Ma io non lo so, perché mi sappiamo che ti ho fatto. Vai là. Sbrigati. Madonna, non ci metti? Andiamo. 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 In pomeriggi vuoti, sempre troppo uguali Trovo l'intuizione, quella mia finale Alla ragione, decido di svoltare Mi affido all'equazione, che porta via le pene Senza cuore Senza più dolore Senza cuore Te la farò pagare per quello che hai fatto Ehi, giù, come on, fai la città Alla, te existi riferi, che ci intera Chiedi, ti basso stessa oggi Si Gai bai aaaah 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 mafiozoli che sei mazzerbolo dove dove che hai storbole d'erbeti aolì 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 2.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 ciao aaaah 5.000 che cos'è? 100 ho fatto cerchio ciao sabri ciao 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 andiamo a prenderci a studiare? si è una buona idea ciao ciao e slfly come capato noi siamo? 1008 con il fango ok che cannaio ha sbagliato anche bene devono expenses interessati che ho metatemi e quindi Ok chi legge? Leggi te Sabri! Va bene! L'apparato circolatore è formato dal sangue, dai vari statubini e dal cuore No! Abbiamo le stesse scarpe, non ci posso credere! Che più belle, vero? Sì, con le hai comprate? Ieri! Anch'io, l'iper, vero? Sì! Ma ieri le ho viste originali queste! Ah ah, e le tue le hai comprate un anno fa o ieri? Non ti direi! Mi pare, ma voi ne prende queste cimiterie, se sapete, vero? Ma come tipo nera! Mi permette come? Nere come il cimitero, cioè veramente! Scusate, mi farò un web? No, dai, non ti capisci! Sì, facciamo così! Facciamo i bigari di studiare cosa facciamo! Beh, non ci puoi! Dove stai dicendo? C'è voi che sto a te, dai, noi non abbiamo niente! Tacagna, 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 tacagna! Che chiuda! Io mi risolvo i cedio, io non so che consiglio il libro! Ehi, dobbiamo prendere i posti in prima fila, tanto non paghiamo noi! Sì, sì, faccio! Ovviamente! Paghiamo ogni cosa! Io sentite queste quattro, tanto pago io! Ma no, io stavo dicendo solamente che ti volevo ringraziare! Sì, fatica! Sì, fatica! Benvenuti al circo, signori e signori! Oggi vi presenteremo un corso di magia e giocoliere! Qualcuno del tuo giunto vorrebbe darvi qualche schizzo così a una magia? Grazie! Molto gentile! Sì, qualche lungo il pubblico perché io ho i soldi qui in Italia! Allora, questi soldi li lancerò via! E per magia compariamo nel mio berretto! Ohhhh! Guardate, è vuoto! Ohhhh! Ecco il soldi! Bravo! Il prossimo numero sarà un giocoliere molto bravo e astuto! Ecco a voi, Daniel e Ido! Sì! Che noia! Grazie! Gliules ! Sì, messi! O andiamo, facciamo il shopping! Sì! C'è il store? Allora, sentiamo dai! Matt! 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 Matteo, 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 Matteo.